Utile netto record per Aramco, il gigante petrolifero saudita, il più grande produttore di petrolio del mondo. 48,4 miliardi di dollari nel secondo trimestre 2022. Un risultato favorito dall'impennata dei prezzi del greggio in seguito alla guerra in Ucraina e alla forte domanda post-pandemia. L'utile netto di Aramco è balzato del 90% rispetto all'anno scorso e nel periodo aprile-giugno 2022 è aumentato del 22,7% rispetto al primo trimestre dell'anno. Aramco è il fiore all'occhiello del regno e tuttora è la principale fonte di entrate per l'Arabia Saudita nonostante il tentativo del principe ereditario Mohamed bin Salman di diversificare l'economia saudita ancora fortemente dipendente dal petrolio.